Casa Sicura, la struttura didattica dedicata alla sicurezza domestica, progetto ideato e realizzato da Vigili del Fuoco di Pistoia, ha festeggiato dieci anni di attività, aprendo le porte alla città, dando la possibilità a tanti bambini di diventare pompieri per un giorno, cimentandosi nel percorso di Pompieropoli, la discesa dal palo, l'attraversamento del muro, la trave, il passaggio del tunnel e infine spengere l'incendio della casetta per poi ricevere l'attestato di pompiere. Oggi sono dieci anni di attività di Casa Sicura, siamo sempre in crescendo, quindi a oggi abbiamo quasi 21.000 ragazzi passati da Casa Sicura che hanno fatto un incontro una mattina a meno di due ore, quindi per noi è un successo e si festeggia appunto anche con i bambini con questa Pompieropoli. Cose nuove per il futuro? Intanto ci siamo regalati, virgolette, un televisore 85 pollici per far vedere, per migliorare la qualità in aula ai ragazzi. E poi abbiamo in progetto anche altre osette che ancora sono da definire. Abbiamo un nuovo mezzo, questo si è già appurato e poi continuare a migliorare anche Casa Sicura.